Perché Just People? Il mio messaggio è abbastanza frivolo mentre il progetto di Cornelia è molto forte spesso ha dei lati amari e duri però ho voluto partecipare lo stesso perché volevo esserci Io sono tosto Nella vita, nel passato ho avuto numerose difficoltà anche abbastanza gravi ma ne sono sempre uscito con le mie gambe da solo e ne sono uscito con leggerezza Questo tostapane mi è stato regalato in un'occasione di una grande celebrazione come se fosse un regalo molto importante ma non ha mai funzionato e quindi l'ho sempre tenuto anche se ha quasi vent'anni come ricordo leggero, frivolo di tutte queste difficoltà superate Inoltre questo tostapane ricorre compare in molte foto importanti della mia vita è quasi un progetto fotografico e non un progetto fotografico e riscorre come simbolo surrealista in momenti vari e potrebbe un po' essere come la mela nei quadri di Magritte Una cosa che posso dire di questo progetto col cuore è che al di là del modo con cui ho affrontato il tema il progetto di Cornelia è molto forte è sentito veramente e mostra tutta la sua nudità dei temi, degli aspetti importanti molto forti molto veri venite a vedere la presentazione e seguite il progetto Just People Grazie a tutti